e ora sempre il maestro bossone che sta così dirigendo l'orchestra con così tanto entusiasmo veramente che lo ringraziamo moltissimo ci fa ascoltare due brani di Chopin sono esattamente il notturno in mi bemolle maggiore opera 9 numero 2 composizione di rara intensità poetica e il secondo brano invece è una polacca in la maggiore opera 40 numero 1 composizione vigorosa dal piglio tipicamente militare grazie Grazie a tutti. 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 Grazie.